Dopo una pasquetta caratterizzata dal maltempo in montagna, tenere col fiato sospeso gli operatori turistici è il caso del cambio delle funi, obbligatorio a questo punto dopo il rigetto del ricorso al TAR del Comune. La questione è molto complicata dal punto di vista dei lavori. Va precisato che il Comune è proprietario dell'impianto e dunque spetterà lui sostituzione e reperimento dei fondi. Probabilmente si farà un'indagine di mercato per capire le ditte adatte. Ce ne sono almeno due specializzate, una nel nord Italia e una francese. Bisognerà anche capire se si percorrerà la strada del Consiglio di Stato dal punto di vista delle aule giudiziarie. Intanto la funivia potrà restare attiva sino alla fine del mese, ma le temperature di questi giorni non aiutano di certo la neve. Poi sarà corsa contro il tempo. Si prevedono almeno sei mesi di stop e quindi a rischio c'è la prossima stagione invernale. Ci sono i lavoratori del centro turistico, come c'è tutto l'indotto delle scuole sci, degli albergatori. Da parte del Comune e del centro turistico la consapevolezza di aver fatto comunque tutto il possibile. E Dino Pignatelli, l'amministratore, la cui testa è chiesta a gran voce dalla politica, da una parte di politica, respinge al mittente le dimissioni. Il 13 settembre comunque scadrà il suo mandato. Bisogna ordinare le funi perché vanno costruite nuove. Non è una cosa che si trova già fatta, quindi vanno costruite. Ci saranno dei tempi tecnici. diciamo che dal momento in cui si fa l'ordine 5-6 mesi ci vorranno. Abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare. Abbiamo fatto, ripetuto gli esami, ricontrollate, a vista. Siamo stati diversi giorni proprio sopra la funivia a verificare, deviso proprio tutta la fune. Noi abbiamo rispettato appieno la legge che consente determinate riduzioni di sezione in base all'età. Insomma se tutto abbiamo tutto rispettato. Quindi non so adesso, purtroppo ha preso questa decisione la sfisa e non ha voluto recedere. Anche il Tar era comprensibile perché è una relazione che mette in allarme per la sicurezza. I giudici chiaramente non si assumono la responsabilità, che non c'è nessuna responsabilità. Però sulla carta, come ha presentato la sfisa, purtroppo è questa la situazione. Hanno chiesto tante persone le sue dimissioni. A lei il 13 settembre scade l'incarico, non ci saranno le dimissioni? Non vedo perché debba dare le dimissioni. È una mossa politica, i soliti politici che parlano le dimissioni. Se mi dessero una colpa l'accetterei e mi dimetterei. Ma così tanto per dargli la soddisfazione politica. Non le do anche perché non è nel mio costume dimettermi. Le cose le affronto e le risolvo.